Io mi chiamo Hotaki Atigola, io lavoro qua a Padua, Corso del Popolo numero 11, da un paio di anni che sono qua, è una bellissima città, questa città potrebbe dare le migliori possibilità ai giovani che è piena di studenti, ma purtroppo qua è pieno di spacciatori, magrebini, tunisini, algerini, marocchini, che spacciano e non fanno niente e disturbano le persone. Perciò questa è la responsabilità del sindaco e della polizia e dei giudici, se lo prendono non devono uscire, se mettono un reato la seconda volta devono essere a casa loro, è la responsabilità dei giudici e della polizia se loro girano. Ieri sera io lavoravo, come dal video vi ho dimostrato, stavo preparando per una signora i tre kebab e vengono tre persone, mi hanno messo il spray peperoncino, mi hanno picchiato, mio cugino è stato in ospedale, testa rotta, piena di sangue, ma questa è la giustizia, questa è Italia.